E ora per Libri nel Borgo Antico ascoltiamo l'intervista a Giulia Perrino, coautrice del libro Una finestra sulla storia. Un cavaliere a Castiglione tra Angioini e Aragonesi è il libro curato da Sandro Sublimi Saponetti e da Giulia Perrino alla quale porgo il benvenuto. Chi era quest'uomo d'arme noto con il nome di Cavaliere di Castiglione? Si tratta di un uomo vissuto negli anni a cavallo tra il 1300 e il 1400, sappiamo con certezza che è morto nel 1417, è stato ritrovato nella chiesa dell'Annunziata a Castiglione, nella borgo rurale di Castiglione, nei pressi di Conversano ed è stato studiato da un'equipe di antropologi e studiosi che si sono occupati di ricostruire gli aspetti storici allo scopo appunto di restituire una finestra sulla storia, sulla sua vita appunto. È stato un lavoro complesso che ha portato in luce appunto le caratteristiche di questa persona che abbiamo verificato essere un cavaliere. Ci sono molte cose in servo per il futuro perché lo studio prevede ancora indagini archeologiche che sono in corso, ci sono ancora anche altre analisi che si stanno conducendo sul piano antropologico e quindi ci aspettiamo che la ricerca porti ulteriori risultati per riscoprire questo momento storico della nostra vita e cultura nella nostra regione. Un cavaliere a Castiglione tra angioini e aragonesi per i quaderni della sezione sud-est barese studi in memoria di Claudio Andrea Labbate, testo curato da Sandro Sublimi Saponetti e da Giulia Perrino che saluto e ringrazio. E ringraziamo anche i libri nel borgo antico, la rassegna letteraria che si tiene a Biceglie ogni anno nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro. Grazie a tutti.